Ciao, intelligenze naturali. Vediamo come funziona l'elemento di base, vediamo un neurone. Poi in futuro andiamo a vedere come funziona l'intero cervello. Quanto effettivamente assomigliano le reti neurali al vero tessuto nervoso? Poco. È come dire quanto assomiglia un aereo a un uccello. L'aereo ha effettivamente le ali e vola, ma il sistema di produzione è totalmente diverso. Per questo si parla di intelligenza artificiale bio-ispirata, perché è ispirata ma accoglie soltanto alcuni elementi dalla natura, il resto è uno sforzo di tipo ingegneristico e scientifico. Esistono tutta una serie di modelli che sono meno meno dettagliati ma che imitano il funzionamento del neurone, per finire con quello che si trova all'interno delle reti neurali che è il modello di neurone più semplice in assoluto. Il compito del neurone è raccogliere informazioni degli altri neuroni attraverso le sinapsi, che sono le connessioni tra i neuroni, elaborare questi segnali a seconda di quanto poi sono forti queste connessioni con gli altri neuroni. È come se avesse diverse amicizie all'interno del cervello e sente parlare da ognuno e a ognuno dà un peso diverso. Tra l'altro l'apprendimento va proprio a cambiare la forza di questa connessione. Il singolo neurone che cosa fa? Prende tutti questi segnali in entrata, uno per uno li moltiplica per il peso della connessione e poi fa una somma di tutti questi input pesati, ottenendo il cosiddetto potenziale di azione. La funzione di attivazione ci permette di trasformare questo potenziale di azione, questa forma di acidazione, in un segnale che andrà poi agli altri neuroni. Questo è il comportamento di base del neurone. Proviamo a scrivere tutto questo in Python e confrontiamolo con la notazione matematica. Costruiamo la classe neurone che come attributa un set di pesi, ossia l'importanza che dà ogni input. Facciamo che il primo input dà un'importanza pari a 1, cioè lo ascolta e non lo varia. Al secondo input dà pochissima importanza, praticamente lo ignora. E al terzo input dà un'importanza molto grande di 2, però negativa, ossia lo cambia di segno. E poi abbiamo una funzione che calcola l'output di questo neurone dato un array di inputs. Che cosa facciamo? Calcoliamo il potenziale di azione, iniziato a 0, poi facciamo un loop sui input, sui input, range, len, la lunghezza, inputs, ok. Questo io ho un indice che scorre tutti gli input. E aggiungiamo al potenziale di azione l'input stesso a quell'indice per il peso corrispondente. Una volta calcolato il potenziale di azione, possiamo passarlo alla nostra funzione di attivazione, PA. Ok? Non l'abbiamo ancora scritta. def, come è? Activation, activation function, che riceve in input il nostro potenziale di azione. E qui adesso ci mettiamo una sigmoide, ma ci sono varie funzioni di attivazione. La sigmoide a partire dal potenziale di azione restituisce 1 diviso 1 più .exp e alla meno PA. Andiamo a provarlo. Neuron uguale neuron. Abbiamo costruito un nuovo neurone. Dopodichè che proviamo ad attivarlo. Neuron.output. E gli passiamo in input un array, che può essere ad esempio 1.1.1. Vediamo come risponde. 0.26. Proviamo a passare tutti i zeri. Vediamo che succede. Indoviniamo che cosa succederà adesso. 0.5. Questo 0.5 dove ha fatto che il potenziale di azione è 0 effettivamente, perché qui dagli input arriveranno una serie di zeri che annulleranno tutta questa sommatoria. Qui viene passato effettivamente uno 0, ma poi la sigmoide porta lo 0 a 0.5. Proviamo a far attivare il neurone agli estremi della sigmoide, quindi o a farlo attivare al massimo 1, o a farlo attivare al minimo, cioè 0. Per farlo attivare un numero al massimo, il neurone ha bisogno di ricevere degli input che nel primo caso è un numero positivo, nel secondo caso qui possiamo mettere qualsiasi numero, perché di base viene ignorato, quindi mettiamo semplicemente uno 0. In questo caso qui, siccome la rete assegna un grosso peso negativo, possiamo passare un peso negativo. Adesso dovremmo ottenere un numero vicino a 1, perché ognuno degli input viene valorizzato al massimo, e infatti abbiamo 0.95. Proviamo adesso a tirare fuori un numero vicino a 0, cioè quando è che questo neurone si attiva poco, quando riceve un input negativo come primo input, il secondo anche in questo caso è indifferente, e nel secondo caso invece abbiamo un numero positivo, e viene 0.04. Adesso che abbiamo capito come funziona un solo neurone, sarà molto più semplice capire come funziona uno strato di neuroni e una rete composta di diversi strati. in bocca al lupo per il vostro potenziale di azione, subscribe e con Pollo ci vediamo al prossimo test di Turing. bio ispirata a quella branca di intelligenza artificiale.